video news di martedì 3 maggio e i titoli per la prima volta nelle marche la somministrazione ad un neonato della terapia genica per l'asma sono 29 i titoli che parteciperanno al premio dolores prato città di treia concorso riservato solo a scrittrici donne anteprima nazionale al vaccai di tolentino per una volta nella vita nuovo musical di compagnia dell'arancia con un cast di 11 artisti diretti da mauro simone e nello sport ci occuperemo anche di volley gara 2 di finale scudetto già sold out la lube civita nova si prepara per la sfida in casa contro la sir safety conad e perugia ben trovati anche quest'oggi all'appuntamento col nostro video news sabato prossimo 7 maggio presso l'ospedale salesi di ancona avverrà la somministrazione della terapia genica per la malattia neuromuscolare sma ad un neonato di soli 24 giorni che lo consegnerà ad una vita normale si tratta di un evento eccezionale eseguito per la prima volta nelle marche l'atrofia muscolare spinale conosciuta appunto con l'acronimo di sma è una grave malattia che colpisce circa un neonato ogni 8 9 mila il difetto genico alla base di questa malattia porta alla progressiva morte delle cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento dal luglio 2021 è disponibile questa nuova terapia genica l'apposito medicinale viene somministrato per via venosa una volta nella vita possibilmente alla nascita o poco dopo nei neonati con diagnosi clinica e genetica di sma gli istituti attualmente a disposizione dimostrano che dopo il trattamento i bambini hanno uno sviluppo motorio normale come precisa e ricorda anche l'azienda ospedaliera anconetana continuano con successo i numerosi servizi e le iniziative gratuite messe a disposizione dei cittadini dal progetto facciamo rete terzo settore marche per l'emergenza covid 19 che raduna ben 58 associazioni di volontariato e di assistenza per contrastare gli effetti di esclusione sociale precarizzazione e marginalizzazione acutizzati appunto dalla pandemia con assistenza diretta alla comunità e tante iniziative pubbliche iniziative tutte aperte al pubblico che prevedono sia lezioni teoriche online che pratiche in presenza domenica 8 maggio a frontignano di uscita si impareranno ad effettuare escursioni in sicurezza oltre che a gestire le emergenze con una lezione di pratica dove verranno trattati diversi argomenti sabato 14 maggio training autogeno nel bosco presso la faggetta di valle caprina ad amandola domenica 29 maggio sarà la volta dello shirin keiyoku o bagno nella foresta il festival internazionale della salute e sicurezza sul lavoro propone una riflessione un confronto per le istituzioni il mondo del lavoro e la società civile nel corso di una tre giorni che dovrà diventare ricorrente nel panorama europeo la prima edizione si terrà ad urbino il 4 5 6 maggio e a portare i saluti della regione in apertura del festival ci sarà l'assessore al lavoro e alla formazione stefano aguzzi il tema scelto per questa prima edizione pone l'attenzione sulla partecipazione intesa come la nuova sfida della prevenzione conferenza stampa di presentazione in regione del libro di chiara giacobelli dal titolo 100 cose da sapere da fare ad ancona e nella riviera del conero nel libro tante proposte per scoprire il territorio e news per chi già pensa di conoscerlo ma scopriamo anche noi di più nelle servizio un format già sperimentato e approvato quello di 100 cose da sapere da fare ad ancona e nella riviera del conero con cui l'autrice giornalista chiara giacobelli ha descritto con successo anche le città di senigallia e pesaro realizzata in collaborazione con il comune di ancona mette in luce i punti forti della città del litorale del territorio circostante il monte di ancona aspetti insoliti e meravigliosi da esplorare e assaporare nella loro interezza il volume già acquistabile presso le librerie e canali di vendita telematici il libro un volumetto tascabile perfetto per essere portato con sé e consultato sui posti da visitare al suo interno 100 proposte per il territorio tra cultura storie luoghi del cuore e personaggi storici per scoprire la città di ancona ma anche riscoprirla da nuove prospettive nel libro tanti spunti per gite attività e suggerimenti gastronomici per vivere il territorio di ancona e la riviera del conero a 360 gradi l'idea era di fare un libro sia per i turisti che per i cittadini che vogliono scoprire la propria città come spiega l'autrice 100 cose sono sicuramente poche per raccontare tutto questo fantastico territorio ma abbiamo voluto fornire una piccola guida agile di facile consultazione questo libro ribadisce chiara giacobelli vuole essere non solo un contenuto scritto ma anche una mappa una guida e un libro di fotografia e contenere tutto seppur in poche pagine nei giorni scorsi è stata eletta l'assemblea regionale di anci giovani marche la consulta regionale marchigiana dell'associazione nazionale comuni italiani che riunisce e rappresenta la realtà degli amministratori under 35 i lavori sono stati introdotti da valeria mancinelli presidente anci marche irene ciaffoncini di urbani è stata eletta coordinatrice regionale al suo fianco come vice coordinatore francesco colossi di tolentino violenza di genere pedo criminalità nelle fonti giudiziarie età medioevo ed età moderna è il titolo della giornata di studi organizzata dall'università di macerata dipartimento di studi umanistici per giovedì 5 maggio nella sede in corso cavurre l'iniziativa proposta dall'ateneo vuole raccogliere contributi che possano arricchire lo scenario storiografico relativo alla violenza di genere alla pedo criminalità in un ampio orizzonte cronologico dal primo medioevo all'età moderna attraverso approfondimenti sulle fonti giudiziarie e una panoramica delle ricerche in corso d'opera che si allargano dal contesto marchigiano ad un piano nazionale ed internazionale lo scorso 25 aprile gli ospiti del melograno e del fiordaliso hanno svolto una camminata natural culturale il 25 aprile infatti è una delle giornate in cui da tradizione si svolgono uscite fuori porta a contatto con la natura e alla scoperta di luoghi che solitamente non si frequentano un'esperienza che la cooperativa parse ha fatto vivere ad alcuni degli ospiti delle comunità educative l'occasione è stata la camminata organizzata dal comune di morrovalle dalla proloco a cui hanno partecipato anche otto tra bambini e ragazzi dagli 8 e 12 anni delle due comunità educative la giornata è iniziata con i ragazzi che sono partiti per una passeggiata che ha toccato alcuni luoghi importanti delle paese viale del pincio colli bella vista e selva san francesco una volta terminata la passeggiata i ragazzi si sono rilassati in uno spazio attrezzato con giochi ed intrattenimento sono 29 i titoli che parteciperanno alla prima edizione del premio dolores prato città di treia le candidature si sono chiuse c'è stato un buon riscontro misto all'entusiasmo di diversi importanti case editrice nazionali che hanno deciso di candidarsi a quello che si presenta come un'assoluta novità sul panorama letterario italiano il concorso è infatti riservato esclusivamente alle scrittrici donne si è chiusa una prima fase dunque con le opere che passano in mano alla giuria popolare composta da 30 donne lettrici del territorio che si occupano di cultura in diversi ambiti coordinata da lucrezia sarnari che entro il 30 giugno decreterà la cinquina di opere finaliste che verranno poi giudicate da una giuria tecnica la finalissima del premio si rivolgerà il 3 settembre all'interno del festival giù la piazza e sarà un'altra delle iniziative pensate per celebrare il 130esimo anno dalla nascita della scrittrice per la festa del libro macerata racconta domani mercoledì 4 maggio alle ore 17 e 30 nella sala castiglioni della biblioteca mozzi borgetti di macerata presentazione dei due volumi della nuova collana anni memorabili di churchill e come un pedone sulla scacchiera di fleming le prolusioni contenute in questi volumi talvolta dimenticate o mai proposte prima la lettura lasciano i luoghi originari in cui furono pronunciate e danno voce a idee tuttora capaci di insegnamento e di ispirazione specchio di molti degli interrogativi che percorrono le odierne società conferenza stampa di presentazione ieri a tolentino del nuovo musical una volta nella vita once prodotto da compagnia dell'arancia lo spettacolo debutterà in anteprima nazionale ed esclusiva regionale al teatro nicola vaccai dal 6 all'8 maggio chiudendo così la stagione di prosa 2022 promossa dal comune e dall'amat sono intervenuti saverio marconi direttore artistico di compagnia dell'arancia il regista del lo spettacolo mauro simone e l'intero cast di questa emozionante storia di coraggio e perseveranza attraverso il linguaggio universale della musica c'eravamo anche noi vediamo quindi come è andata nel servizio si ritorna in teatro precisamente al teatro nicola vaccai di tolentino per questa anteprima nazionale di questo nuovo musical una volta nella vita qui con noi i due protagonisti insieme ad altri interpreti che si esibiranno nelle fine settimana qui in città luca gaudiano e jessica lorusso che effetto vi fa tornare ad esibirvi in teatro è l'effetto del finalmente è un grande sospiro di sollievo perché diciamo che la nostra arte il nostro modo di esprimerci non può esimersi dalla condivisione con il pubblico e di conseguenza tornare partendo da una realtà così importante come quella di tolentino del teatro vaccai ci colma il cuore di gioia perché significa veramente partire bene un progetto questo iniziato ormai tanti anni fa esattamente siamo partiti con il workshop nel settembre 2019 con tanta voglia di fare tanto entusiasmo e quindi ovviamente dopo questi due anni arrivare finalmente al coronamento di questo progetto che poi in realtà è solo l'inizio è una sensazione meravigliosa non vediamo l'ora di portarlo in scena Mauro Simone dopo Dimmi a Dio Domenica ritorna con un nuovo spettacolo come vediamo anche dalla tua simpatica t-shirt Once una volta nella vita uno spettacolo che tu hai definito dolorosamente bello e gioiosamente edificante sì è uno spettacolo che porto nel cuore perché è rivoluzionario è rivoluzionario perché la musica da sempre muove le emozioni della gente e secondo me arrivare dritti al cuore attraverso la musica e con questa storia che parla di musica io lo trovo rivoluzionario anche perché poi gli attori oltre che recitare cantare e ballare suonano anche gli strumenti sono polistrumentisti quindi la musica non è a parte ma è parte integrante di una storia racconta di musica e quindi in questo momento l'Italia ha bisogno di emozionarsi e credo che la forza di questo gruppo sia una chiave di volta per raccontare che cosa può muovere all'interno della gente per arrivare a un atto di pace perché secondo me la pace si crea attraverso la condivisione e questo spettacolo parla di condivisione un atto di generosità quindi una ragazza che incontra un ragazzo che non crede più in se stesso nella sua musica e gli dice tu devi far sentire queste canzoni alla gente tu devi portare la tua musica agli altri e la tua musica ha bisogno di essere ascoltata ma non lei lo so mai la cambierei per il sindaco di san severino marche rosa pier mattei ha sottoscritto nei giorni scorsi a fermo insieme ad altri 60 primi cittadini marchigiani il protocollo d'intesa tra la regione e le amministrazioni locali per l'inserimento di 62 teatri storici nella lista dei beni del patrimonio mondiale dell'unesco alla firma erano presenti il governatore delle marche francesco acquaroli e l'assessore regionale alla cultura giorgia latini il feronia opera dell'architetto ireneo aleandri lo stesso che ideò lo sferisterio di macerata presenta una struttura elegante slanciata verso l'alto con pianta a ferro di cavallo tre ordini di palchi e loggione la decorazione pittorica del sipario storico un olio su tela su bozzetto del pittore san severinate filippo bigioli fu realizzata da raffaele fogliardi il bigioli fu poi anche l'autore degli affreschi a tempera che ornano i palchi ed il soffitto si chiude con un avanzo di amministrazione di quasi 12 milioni di euro il rendiconto 2021 del comune di san severino marche ad approvarlo la sise nel corso dell'ultima seduta nel 2021 sono state acquisite entrate per oltre 20 milioni di euro di queste 6 milioni 380 mila euro sono entrate tributarie 6 milioni 257 mila sono trasferimenti 3 milioni 444 mila sono entrate extra tributarie le entrate tributarie ed extra tributarie sono in aumento rispetto al 2020 anno in cui è stato particolarmente rilevante l'impatto negativo provodotto dalla situazione epidemiologica conseguente al covid 19 al 31 dicembre scorso infine il comune ha registrato un utile di euro 155 mila 514 virgola 10 ed un patrimonio netto di 58 milioni 324 mila euro inizieranno giovedì 5 maggio alle ore 17 al foyer del teatro pier marini di matelica le lezioni di narrando narrando laboratorio di storytelling per le imprese affascinanti le parole di cesare catà docente con andrea anconetani che ha illustrato anche il percorso che gli imprenditori seguiranno nei quattro incontri che il laboratorio prevede gratuito per massimo 20 partecipanti per l'iscrizione occorre inviare una mail a bottega teatro marche chiocciola gmail.com per informazioni ci si può rivolgere anche al numero 338 85 65 405 nuovo appuntamento con il ciclo dei concerti in ateneo organizzato dall'università di macerata con il conservatorio per golesi di fermo giovedì prossimo 5 maggio il giovane musicista jacopo fulimeni si esibirà in un recital pianistico nell'aula di filosofia alle ore 18 e 30 l'ingresso è libero non occorre prenotazione e riprendono dopo il riuscitissimo concerto per le scuole del duo esposto ercoli gli appuntamenti della stagione della gioventù musicale di camerino con un incontro serale giovedì 5 maggio alle 21 e 30 all'accademia della musica corelli di camerino la gioventù presenterà un premi premiatissimo duo composto da giuseppe federico paci al clarinetto e umberto jacopo lauretti al pianoforte impegnati in un piacevole programma dal titolo italia e america dalla complessa ed elegante musica di nino rota con una partitura inedita del grande compositore che per decenni ha collaborato con federico fellini al virtuosismo in chiave jazzistica dalla trascrizione di rhapsody in blue di gashwin uno dei brani più rappresentativi della realtà metropolitana new yorkese e più in generale della cultura americana vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la breve pausa pubblicitaria di nuovo insieme con lo sport previsioni per mercoledì 4 maggio cielo sereno poco nuvoloso brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sulla fascia alto collinare montana temperature minime stazionarie massime lieve aumento venti di brezza attesa o moderati mare quasi calmo al mattino poco mosso nel pomeriggio più in generale più in generale